Salve e benvenuti al corso per utilizzatori del Pixis GC. In questo video vi spiegherò come effettuare la calibrazione manuale e poi andare a cambiare le impostazioni all'interno della graphic user interface. Per effettuare la calibrazione avete bisogno di un cilindro di gas certificato esterno con una concentrazione nota dei BTAX. Questo cilindro va poi diluito a una concentrazione corretta per la calibrazione e collegato al Pixis tramite l'inlet del sample. Una concentrazione corretta potrebbe essere ad esempio 30 ppb per dei metodi analitici per basse concentrazioni oppure 80-100 ppb per dei metodi analitici a concentrazioni maggiori. Una volta che la bombola esterna è collegata allo strumento si fanno partire le misure del Pixis in continuo e si lascia andare la misurazione per almeno 4-5 misure fino al punto in cui la concentrazione e i cromatogrammi sono stabili e per cui sappiamo che lo strumento sta leggendo sempre la stessa quantità di BTAX. A questo punto possiamo stoppare la misura ed andare all'interno della GUI a prendere l'ultimo cromatogramma che abbiamo realizzato e con quello effettuare la calibrazione. Quindi ora vi spiegherò come farlo dalla GUI. Ok ora siamo già collegati alla home page dello strumento che come potete vedere è acceso in status running e sta monitorando. Qui è indicato il metodo caricato. È importante ricordare che la calibrazione ha effetto solo sul singolo metodo che è al momento caricato. Ogni differente metodo deve essere calibrato per suo conto. Per poter procedere alla calibrazione devo stoppare lo strumento e lo status deve essere in ready. Quindi aspetterò la fine della misurazione. Vado quindi nella sezione calibration e recupero il cromatogramma corrispondente, quello con la concentrazione nota e stabile di BTAX. Si effettua la ricerca con i soliti filtri. Un buon suggerimento è sempre quello di inserire un commento nella home page quando si fa partire l'analisi per recuperare facilmente il cromatogramma. Ad esempio se io scrivo calibration e poi faccio partire la ricerca, solo i cromatogrammi che in cui c'era il commento calibration verranno aperti. Noi quindi abbiamo fatto in questo modo e ad esempio posso aprire un cromatogramma che è stato usato con una concentrazione stabile di BTAX e mi si aprirà questa finestra di calibrazione. Posso zoomare come al solito quindi per andare a vedere i picchi corrispondenti. Ad esempio voglio in questo caso selezionare i primi due picchi che sono quelli del benzene e del toluene. Sotto nel calibration panel posso selezionare quali sono i composti che voglio calibrare, ad esempio soltanto il benzene e si compaiono queste linee tratteggiate, puntinate, in cui si va a definire il tempo di ritenzione fondamentalmente del picco. Schiacciando sulla matita si può modificare, quindi PBS che è il base start, ossia dove comincia il picco di eluizione del benzene, si ha un tempo di inizio e una larghezza di questa banda. Io modificando questi valori posso quindi andare a correggere eventualmente il tempo di ritenzione. Posso anche modificare il PMP che è il Peak Maximum Position, quindi dov'è posizionato il picco, e il PBE che è il Peak Base End, ossia dove termina. Inserisco quindi la concentrazione in PPB che so di aver fornito allo strumento. In questo caso quindi ad esempio posso, so che era attorno ai 30 PPB, quindi posso salvare la calibrazione, posso salvarla e effettuarla poi per tutti quanti e 4 i composti, se ho una bombola con 4 BTX. Se io schiaccio calibrate, quindi vengono in automatico calcolati questi risultati, per cui per ogni composto l'area del picco, il tempo di ritenzione e il rapporto, diciamo, della risposta in millivolt del PID con la concentrazione in PPB di quello specifico composto. Per terminare la calibrazione e modificare il metodo devo schiacciare il tasto verde Accept.